buongiorno carissimi ben trovati in questo lunedì della quinta settimana del tempo di Pasqua ma oggi è festa perché celebriamo santa caterina da siena vergine patrona d'italia insieme a san francesco dottore della chiesa e compatrona di europa insieme a san benedetto bene c'è da dire che la liturgia della parola quindi come ben capite tratta dalla dal lezionario dei santi quindi come prima lettura abbiamo san giovanni apostolo mi piace pensare come noi abbiamo degli occhi ma sono utili a noi per vedere il momento in cui c'è luce se non ci dovesse essere quella naturale quella artificiale abbiamo la possibilità di vedere quindi dio è la nostra luce se siamo in lui non siamo nelle tembre viviamo in comunione anche gli uni con gli altri noi ci vediamo e pertanto ci amiamo reciprocamente perché questo è il dono di dio e impegno anche da parte di ciascuno di noi perché ne abbiamo anche la possibilità in quanto figli di dio poi abbiamo il vangelo tratto da matteo capitolo undicesimo è la famosissima ecco testo nel quale di gesù fa una preghiera al padre lo loda lo benedice perché ha nascosto queste cose sapienti ai dotti le ha rivelati ai piccoli ecco santa caterina possiamo dire essere piccola non soltanto perché ha vissuto 33 anni e quindi associata anche a cristo signore ma concretamente 33 anni gli ha vissuti in quel desiderio di consagrazione al buon al signore e ha ricevuto anche il dono delle stigmate che erano sono rimaste invisibili fino al momento della morte una illetterata che ha prodotto tanti testi di profondità immane spirituale perché dio concede la grazia ecco ai piccoli e quella sapienza la dà ai piccoli caterina ha avuto la grazia di desiderare il signore ma di aprire il cuore il cuore quando si apre diventa un continuatore dove è possibile che scenda qualcosa di molto molto più grande di più prezioso allora ecco che satan caterina rifulge a noi come colei che si è data da fare sia un impegno religioso ma anche sociale civile oserei dire perché anche quel papa che era da vignone ha fatto di tutto per farlo tornare in terra sua e quindi a roma ma nello stesso tempo si è impegnata anche in un aspetto di vita sociale di vita umana sarà addirittura poi anche chiamata a roma quando i cardinali stavano un po così in sububbligo nei confronti ecco della stabilità della chiesa minacciavano così la stabilità della chiesa ecco santa caterina ha fatto di tutto anche perché dopo lo scismo ad occidente ci fosse concretamente ecco una ripresa del cammino ecclesiale allora ecco perché santa caterina è diventata dottore della chiesa perché quella sapienza è data ai piccoli ai semplici di cuore quindi non a quelli che vivono nell'astuzia nella perfiglia chiediamo allora al buon dio per intercessione di santa caterina di darci gli occhi della fede gli occhi dell'abbandono fiducioso ma nello stesso tempo di avere un cuore aperto agli infiniti doni di grazia che vengono da dio stesso un abbraccio fraterno a ciascuno di voi buona e santa giornata tanti auguri di buono nomastico a coloro che porto in nome caterina e ci vediamo domani per il nostro appuntamento